Il nostro collettivo vuole essere estremamente solidale con i ragazzi che hanno occupato agli ignomi, che sono stati sopra un tetto 24 ore, poi anche loro dopo vari scazzi nel freddo polare e le famiglie sui tetti hanno optato per Schenner. Vogliamo ringraziare tutti e dare il nostro massimo appoggio ai ragazzi di Caluso, se c'è qualcuno che oggi hanno occupato un posto. Grazie. 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 18 settembre 1993 Grazie. 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 Triple Bastard. Triple Bastard. Imagine War, Imagine Pain. Un pezzo sulla guerra in posti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti